Abbiamo dovuto assistere a questa grande crociata sui vitalizi, mentre Macron si fregava di nuovo i cantieri navali, la cantieristica e piazzava sul piano internazionale la Francia. Quella è la priorità, la posizione dei vitalizi, così come dicono quelli del 5 Stelle, che vogliono dare centralità a questa parte. Ecco, io ormai sono segnato dalle ingiurie del tempo, il tempo passa, mi scava il volto e mi consuma tutte le riserve di pazienza, di tolleranza, i vitalizi. Io sono disgustato per il livello di demagogia, di cialtroneria, di ipocrisia. Primo, i vitalizi non ci sono più in Italia, non ci sono. Stiamo parlando di una cosa che non esiste. I vitalizi erano il riconoscimento che si dava ai parlamentari, anche per una legislatura, a prescindere. Tu fai una legislatura, io ti do ogni mese tot, a prescindere dall'età, a prescindere dai contributi che hai versato o non versato. Era un regalo. Quella cosa lì non c'è già più. C'è una sorta di sistema contributivo. La decisione che hanno preso non è che cancella, non si chiama vitalizio, questa pensione integrativa che scatta a 65 anni. No, rimane. Per qualcuno viene ridotta, per qualcun altro viene addirittura aumentata. Ma si può vivere in un paese nel quale queste buffonate continuano a non scandalizzare l'Italia. Tutto per far finta di essere moralmente superiori. O Gesù, Giuseppe Maria. Facciamo una premessa. Avete visto che negli anni spesso si fa una polemica contro le assenze parlamentari. L'aula parlamentare è vuota. E tutti i giornali a fare il bombardamento contro i deputati, i senatori. Perché? Perché si vuole che uno che fa il deputato e il senatore faccia il lavoro a tempo pieno. Giustamente. Ma se fai il lavoro a tempo pieno e hai una professione, tu devi interrompere la tua professione. Non c'è niente a fare. E se fai due legislature per dieci anni salti. Perché se hai uno studio professionale che per dieci anni non lavora, salti. Dunque avere una pensione integrativa, non il vitalizio, ma consentire al parlamentare, sulla base del versamento di contributi, dandogli un aiuto, di avere una pensione integrativa, a me pare un principio di civiltà che garantisce la libertà del parlamentare e che lo spinge a non rubare. A non rubare. Perché il finto moralismo serve a incentivare il ladrocinio, non a limitare il ladrocinio. Questa è la verità. Quello che mi ha colpito in questa vicenda, come potete immaginare, mi è capitato di ascoltare la dichiarazione che gli hanno scritto fatta da Luigino Di Maio. Io non avevo più avuto tracce di Luigino Di Maio, più avevo tracce, insomma cercavo di non perdere più tempo. Ieri è entrato di prepotenza nella mia casa, disturbandomi la cena. Ho sentito uno spezzone del suo intervento. Beh, Luigino Di Maio parlava come se fosse un premio Nobel, con la... dall'alto dei 13 mila euro al mese netti che prende. Per questo le ho detto che io sto invecchiando ormai, queste cose non le reggo più. Ma in quale paese decente del mondo, uno che prende 13 mila euro netti al mese, senza avere né arte né parte, si può permettere di parlare in quel modo. La domanda che io farei a Luigino Di Maio, se tu domani mattina non fai il parlamentare a 13 mila euro al mese, come campi? Come campi? Non hai mai lavorato, non hai un mestiere, non hai una propria. Come campi? Fammi capire. Questo soggetto si candida a fare il Presidente del Consiglio. E ha avuto l'ardire di dichiarare ieri quando è stato il dibattito parlamentare, con una... vi abbiamo sconfitti, si rivolgeva a quelli del PD, che per la verità in termini di comunicazione sono sempre all'anno zero. Vi abbiamo dato scacco matto, Luigino Di Maio. Ora, noi dobbiamo ricordare a Luigino Di Maio che lui dopo aver dato scacco matto alla geografia, alla storia, alla grammatica, alla sintassi, con il dibattito di ieri, ha dato scacco matto alla decenza. Perché uno che prende 13 mila euro netti al mese, per quello che mi riguarda, deve stare zitto. La riprova è che nella Regione Campania noi abbiamo approvato a gennaio di quest'anno una legge bellissima, che prevede, neanche noi abbiamo i vitali, c'è la pensione integrativa. C'è un solo articolo che dice così. Tutti i consiglieri regionali che vogliono rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al vitalizio, devono andare dal Presidente del Consiglio regionale e comunicarlo per iscritto. Punto. Ho offerto un'occasione ai grillini per coprirsi di gloria. Lei pensa che sia andato uno solo dei consiglieri regionali grillini a dire che io rinuncio a un euro. Ma quando male? Ma quando male? Questi sono dei cialtroni nati, oltre che squadristi. Se vedete le immagini della riunione del Consiglio regionale scorso, quello si chiama squadrismo. Gente che impediva i consiglieri colleghi di parlare. In continuazione sono andati verso la Presidenza. Io ero in Prefettura Napoli a firmare l'accordo per la terra e i fuochi. Hanno gettato terra, non so che diavolo hanno buttato sul tavolo della Presidenza. Ma siamo a livelli di indecenza. Allora, fermiamoci qui. Io queste cose le dico parlando a quegli elettori delle Cinque Stelle che immaginano di fare scelte per avere in Italia più semplicità, più correttezza, più onestà e l'invito a riflettere. Perché chi vuole raggiungere questi obiettivi e pensa di utilizzare quello strumento politico, si sbaglia completamente. Qui siamo alla cialtroneria, alla cialtroneria. Solo che rischiamo di fare male all'Italia. Comunque, noi parliamo dei vitalizi, le palle, le pippe e la Francia. Si difende la sua industria navale, la sua industria energetica, la sua industria dei trasporti. Perché al centro dell'attenzione, lì, ci sono i problemi veri, non le palle che servono a fare propaganda per raccattare un po' di voti. Questa è l'Italia di oggi.